Dopo numerose segnalazioni abbiamo deciso di recarci in località Monti di Eboli per vedere con i nostri occhi la serie di micro discariche abusive che si sono formate nel corso del tempo. La zona è un ambiente incontaminato, frequentato spesso da famiglie o da sportivi che amano fare escursioni o andare in bicicletta. Questo è ciò che abbiamo trovato. Quest'oggi siamo qui davanti a questi bellissimi ruvi che voi direte perché ci sta facendo vedere dei ruvi ma se venite con me vi faccio vedere che qui dove siamo adesso, cioè sui Monti di Eboli vedrete che i Monti di Eboli vengono usati ormai in altro modo ovvero stanno diventando col tempo delle discariche abusive. Questa è la più famosa che è stata segnalata anche sui social è stata segnalata da varie persone vi facciamo vedere meglio da vicino tutto quello che ci sta i copertoni, i paraurti, i sedili delle macchine possiamo vedere che questa roba sta qui da tempo ecco perché qui è piena di insetti, di moscerini che ormai tra chi è morto e chi è vivo stanno facendo a gara e chi deve sopravvivere insomma. Pittura trasparente per interni un fanale che sta qui gomme di biciclette copertoni di ruote paraurti quando ne volete quindi se vi serve qualcosa non andate allo scasso venite qua perché siamo messi bene ma la storia non finisce qui perché se ci incamminiamo vedremo che questo non è solo l'unico posto dove trovare le scariche abusive ma più avanti ne troveremo delle altre è veramente una zona incontaminata si respira un'aria che al giorno d'oggi in città non riusciamo a respirare più noi stiamo arrivando alle altre se venite con me qui sulla destra ne vedete un'aria qui i materiali scaricati cambiano ancora perché se lì erano più materiali che riguardavano le auto qui troviamo più materiali che riguardano ben altro genere come potete vedere barattro enormi addirittura comunque uno skateboard come potete vedere soprattutto la pittura e i barattoli che restano così che si vede che ho il tempo che fine fanno e che fine faranno e chissà da quanto tempo stanno qui ma voi direte queste sono le uniche due cose che ci stanno no perché se andiamo qui sulla destra come vedete qui c'è un piccolo rudere si sa come nei film che quando ci stanno i ruderi dentro qualcosa sempre devono nascondere e infatti vediamo questo qui cosa nasconde quest'altro piccolo rudere apparentemente sembra solo abbandonato a se stesso ma andando un po' più dentro vediamo che non solo qui sono scatoloni che non voglio che non voglio rovesciare perché non so cosa ci possiamo trovare dentro ma vediamo che anche qui c'è un po' di resto di tutto materiale usato per le tapparelle più o meno a buste come quella che è lì nera che è piena di materassi e piena di cuscini e piena di qualche altro materiale non identificato ancora oltre altro materiale buttato qua a terra che è rimasto così chissà da quanto tempo abbiamo provato a vedere se qualcuno potesse darci spiegazioni in merito a questo vandalismo ambientale ma purtroppo sembra non esserci anima viva allora ragazzi questa è la situazione che abbiamo trovato qui ed essendo questa comunque una delle poche zone incontaminate di ebole è giusto che resti così perché per chi viene qui per godersi il paesaggio per godersi un po' la natura per godersi l'ambiente è giusto che quando venga in questo posto trovi una situazione naturale e non una situazione innaturale con delle micro discariche abusive